Chuck, scena 2, azione Buongiorno, prego, accomodatevi Allora, avete studiato? Ragazzi, oggi mi pare che dobbiamo fare chimica, se non sbaglio, no? Vi provo di chimica Dove eravamo arrivati? Signoria Laspina, buongiorno Cos'è tutta questa voglia di ridere oggi? Vuole essere al centro dell'attenzione? Ma renda partecipe a tutta la classe, allora Anzi, facciamo una cosa, venga qui la carta Venga, venga La sto aspettando, signorina Grazie Buongiorno Visto che ha così voglia di essere, come dicevo, al centro dell'attenzione Adesso vi può spiegare che cos'è la variabilità dell'atomo di carbono Grazie Silenzio Stop Stop Grazie 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 Grazie